Ciao, mi chiamo Lara Bellardita, sono una psicologa e psicoterapeuta. Sono specializzata in psicologia clinica della salute e in psicoterapia ipnotica. Il mio lavoro consiste nell'offrire un supporto psicologico per gestire al meglio situazioni stressanti e ansiogene e per prevenire che l'impatto dello stress e dell'ansia abbiano effetti a lungo termine sulla salute fisica e psicologica. Pensa per esempio a come il cibo viene utilizzato per allentare la tensione psicologica. Al momento ti senti bene ma poi arriva il senso di colpa e il crollo dell'autostima. Come fai a comprendere quello che succede in quei momenti? Magari sei triste oppure arrabbiato. Come puoi attivare comportamenti che ti aiutino a gestire le tue emozioni, lo stress e l'ansia in maniera sana e persino produttiva. Con il mio lavoro posso aiutarti a comprendere quali comportamenti, emozioni e convinzioni rappresentano una minaccia per la tua salute e a trovare alternative che siano coerenti con il tuo bisogno e il tuo desiderio di stare bene fisicamente e psicologicamente. Posso inoltre aiutarti se stai vivendo una situazione di malattia cronica. Infatti da più di dieci anni collaboro con medici e altri operatori sanitari supportando pazienti e familiari a gestire rabbia, tristezza, paura e senso di solitudine e a trovare le risorse per affrontare le sfide che la malattia porta con sé. Sono diversi anni che sperimento la consulenza psicologica online. Ti consente di conciliare il tuo bisogno di prenderti uno spazio e occuparti della tua salute e del tuo benessere con i tuoi impegni lavorativi e familiari. Consiglio Mindwork perché ti offre l'opportunità di accedere a una consulenza psicologica che tenga conto dei tuoi bisogni logistici, di privacy e personali e garantendo che il professionista a cui ti rivolgi abbia le competenze necessarie e un profilo professionale coerente con la tua richiesta. Se vuoi migliorare il tuo benessere psicologico e il tuo stile di vita non esitare a contattarmi.